Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a Codemobile. Oggi vorrei farvi vedere come in pochi semplici passaggi riusciremo a cambiare nickname senza spendere Codepoint, bensì solamente con i crediti gratuiti. Per poter cambiare nick, come prima cosa ci serve la carta a cambio nome. Per ottenerne una, dobbiamo semplicemente andare nel negozio, nella sezione delle carte. Ed eccola qui. Come potete vedere, il gioco ce la propone a 500 CP, ed è qui che molti giocatori tornano indietro delusi di non poterla comprare. Ma se procediamo avanti premendoci sopra non ce la comprerà subito, ma ci darà la possibilità di scegliere con quale moneta di gioco comprarla. Qui infatti abbiamo uno switch che ci permette di scegliere se acquistare con i CP o con i crediti, quelli basi insomma, quelli che guadagniamo dalle missioni. Scegliendo i crediti ci dirà che ne serviranno mille per comprarne una. A questo punto non sarà più una spesa così folle. Una volta completato l'acquisto andremo nel nostro profilo giocatore, poi nella sezione delle informazioni del giocatore. E in questa sezione, premendo nella casella a fianco del vostro nickname, vi sarà possibile inserire il nuovo nick. Una volta scritto, premete su cambia, il gioco sarà fatto. Come avete visto, non è nulla di assurdo. Il gioco sotto questo punto di vista è un po' un infamotto, visto che non ci spiega come fare per acquistarla senza spendere soldi. Dunque, spero che con questo video eviterete di farvi fregare. Ebbene, anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao belli! Noi ci vediamo nei prossimi video.